ciao ragazzi bentornati bentrovati questo è il mio secondo tutorial in epoca di corona streaming oggi è sabato volevo tenervi compagnia anche oggi e lavorare magari su un tutorial un pochino più basato sulla post produzione oggi mi vedete col cappuccio fa freddino stiamo per andare sul terrazzo usciamo e vi faccio vedere che cosa possiamo fare insieme oggi eccoci qua allora questa è la vista dal mio terrazzo oggi la giornata è piuttosto coperta abbastanza umida abbastanza freddina giro così mi vedete e vedete anzi anche che ho sempre uno smartphone voglio fare un'altra foto con lo smartphone però poi voglio farvi vedere l'idea di una post produzione un pochino diversa allora quello che vorrei mostrarvi è come si gestisce una situazione di contrasto elevato c'è una situazione in cui abbiamo delle cose molto chiare delle cose molto scure che dobbiamo poi andare in post produzione a fondere insieme per mantenere il dettaglio nelle luci e anche il dettaglio nelle ombre quello che normalmente si chiama hdr o fotografia diciamo ad alta gamma dinamica che però si può fare in vari modi si può fare anche con uno smartphone allora vi faccio vedere quello che sto inquadrando poi lo vedremo meglio al computer come vedete sto includendo apposta nella mia inquadratura una parte del soffitto e una parte del davanzale perché sono delle cose molto scure quindi sto in qualche maniera creando diciamo appositamente un'immagine con una gamma dinamica molto molto elevata allora sto usando lo smartphone l'ho montato su un treppiedi come vuote come vedete e sto usando l'app che vi ho già descritto ieri in un altro tutorial si chiama pro shot è una delle app un pochino più avanzate per la fotografia che ci danno un po più di controllo un po più di strumenti come vedete ho anche attaccato qua delle cuffie non perché devo sentire la musica ma perché non so se sapete che le cuffie sullo smartphone agiscono come un telecomando cioè se voi premete il tasto del volume sulle cuffie scattate una foto vedete senza bisogno di toccare lo smartphone e quindi senza 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 andarla a muovere e introdurre una vibrazione allora voglio scattare tre foto con tre esposizioni diverse per far venire esposto correttamente sia il cielo che è più chiaro sia gli alberi in primo piano sia perfino il terrazzino diciamo questo pezzetto del terrazzino e poi voglio andarle ad unire in post produzione allora vediamo quello che posso fare cerco di farvelo vedere direttamente così mentre manovro lo smartphone allora andiamo innanzitutto a vedere le impostazioni ecco allora se entro nelle impostazioni tanto posso andare a attivare la griglia e poi lasciamo anche in jpeg per ora l'altra cosa posso anche attivare la livella che male non fa l'altra cosa che vorrei attivare è l'istogramma eccolo qua ora l'istogramma lo vediamo qua ci sono varie modalità di visualizzazione l'istogramma scegliamo quella diciamo un po più comoda forse questa seconda ecco allora come vedete abbiamo a che fare con l'istogramma molto largo cioè va dal bordo di sinistra al bordo di destra questo vuol dire che abbiamo delle cose molto scure e delle cose molto chiare nella nostra immagine cioè appunto abbiamo una situazione di elevata gamma dinamica rischiamo di non riuscire a catturare su tutto in un unico scatto perché avremmo le cose scure troppo scure o le cose chiare troppo chiare allora come possiamo andare a risolvere il problema beh con una fotocamera faremo un bracketing cioè andremo a scattare diverse esposizioni cambiando l'esposizione di uno stop alla volta e poi andremo a fonderle in post produzione bene qua possiamo fare esattamente la stessa identica cosa quindi vado nelle impostazioni nelle impostazioni posso attivare un bracketing attiviamo un bracketing da due stop quindi che vuol dire che la l'app farà una foto normale una foto sovraesposta di due stop e una foto sottoesposta di due stop ok questo bracketing lo farà lavorando sugli iso a questo punto io vado a premere il pulsante di scatto che è il mio pulsante del volume e la macchina effettua tre scatti bene a questo punto abbiamo effettuato i nostri tre scatti quindi abbiamo tre immagini andiamo a portare tutto al computer e vediamo come riusciamo ad unirle avremo tre jpeg quindi probabilmente la vostra produzione non sarà ottimale d'altra parte neanche lo scatto è così meraviglioso da un punto di vista compositivo però forse possiamo imparare qualche tecnica per unirli in maniera efficace fatta bene ci vediamo al computer ciao ragazzi allora eccoci al computer andiamo a unire le foto che abbiamo scattato prima con lo smartphone quindi abbiamo tre esposizioni diverse ho già importato le tre foto in lightroom vi faccio vedere quello che abbiamo ecco fatto 1 2 e 3 quindi questa è la prima immagine abbiamo qua tutti i dati di scatto questa è scattata un millesimo di secondo iso 20 seconda immagine un duecento quarantesimo di secondo sempre iso 20 terza immagine un cento ventesimo di secondo iso 40 queste scelte sono effettuate automaticamente dallo smartphone quindi abbiamo tre esposizioni diverse andiamo a unirle allora da un punto di vista generale ci sono due modi di fare questa operazione un modo automatico che si chiama hdr cioè high dynamic range che significa dare queste tre immagini o 5 o 7 se ne scattano normalmente a un software che poi va a unirle in maniera automatica oppure in modo manuale io questo è un tutorial che voglio tenere abbastanza breve le immagini non sono dei file raw sono dei jpeg scattati con lo smartphone quindi il risultato qualitativamente non sarà eccellente ma voglio almeno darvi un'idea dei due approcci allora l'approccio cosiddetto automatico si può fare anche all'interno di lightroom semplicissimo selezioniamo tutte e tre le immagini clic con il tasto destro unione foto hdr lightroom genera un'anteprima eccola qua noi gli diamo clicchiamo unisci e automaticamente lightroom genera un nuovo file che è un file dng un raw dell'adobe con l'unione delle tre immagini eccolo allora la cosa diciamo negativa del metodo automatico è che essendo completamente automatico la qualità non è mai proprio eccezionale tuttavia lightroom ha uno dei metodi tutto sommato più ragionevoli di fare questa operazione perché fa un hdr abbastanza conservativo quindi non abbiamo delle immagini completamente assurde quindi magari non è proprio il top della qualità però diciamo sono di solito delle foto abbastanza ragionevoli come questa questo è il risultato un'altra cosa positiva è che se noi prendiamo il nostro file unito da lightroom e andiamo nel modulo sviluppo abbiamo tutte le impostazioni che lightroom ha deciso di utilizzare e possiamo tornare a modificarle per esempio lightroom ha aumentato la vividezza la saturazione io posso resettare queste impostazioni se trovo che le ombre sono troppo chiare e quindi hanno un effetto un po innaturale posso ridurle un pochino se voglio recuperare un pochino le luci lo posso fare se voglio ridurre un po la vividezza ecco posso farlo cioè posso in qualche maniera andare ancora a intervenire su questa unione hdr che ha fatto lightroom per me bene questo è il primo metodo e diciamo ci sono tanti altri software che fanno un'unione automatica in hdr ce n'è uno che si chiama photomatics ce n'è uno nel pacchetto della nick eccetera sono tutti quanti dei software a pagamento dedicati a questa operazione ma devo dire tutto sommato nella mia esperienza lightroom in generale fa un lavoro anche migliore di questi altri software vedete qui non l'ho enfatizzato prima ma lo vedete perché non riusciamo con una singola immagine a risolvere il problema perché questa che sarebbe l'esposizione di mezzo se noi andiamo a vedere nel modulo sviluppo vedete abbiamo un histogramma molto molto grande se vado ad attivare l'allerta sulle alte luci le zone che vedete rosse qui sono delle zone bruciate ora qui siamo un po al limite se questo fosse un file raw io potrei lavorarlo tranquillamente senza bisogno di un'unione di immagini diverse perché abbiamo un histogramma ampio ma non così ampio come vedete le zone nere che sono quelle che qui vedete in blu e le zone bianche che sono quelle che qui vedete in rosso sono tutto sommato molto poche sarebbero recuperabili lavorando un file raw singolarmente quindi diciamo l'esempio forse non è dei migliori però ecco considerando che abbiamo un jpeg e non abbiamo quella flessibilità di lavorazione dovremmo andare a unire come minimo questa immagine con questa questa probabilmente non ci serve proprio ma nel caso in cui uniamo le immagini in hdr cerchiamo di dare al software più immagini possibile in questo caso tre ma normalmente si danno anche cinque o sette immagini per avere insomma perché il software abbia più materiale su cui lavorare vediamo un po come potremmo unirli manualmente molto molto rapidamente a quel punto lightroom non ci basta più abbiamo bisogno di photoshop quindi dobbiamo andare a scegliere quali immagini unire sceglieremo io sceglierei questa che è l'immagine di mezzo questa che è l'immagine da cui recuperare le alte luci dal cielo di questa direi che non abbiamo assolutamente bisogno quindi vado a selezionare queste due immagini clic con il tasto destro voglio aprirle in photoshop faccio la procedura come se avessi dei file raw anche se non ho dei file raw in questo momento li apro come oggetti avanzati in photoshop questo perché a questo punto all'interno di photoshop io trovo dei livelli sui quali posso fare doppio clic e photoshop mi va ad aprire in camera raw vi faccio vedere ecco questo è il mio livello vedete l'icona dell'oggetto avanzato se io ora faccio doppio clic sul livello ecco che photoshop apre l'immagine in camera raw e quindi io posso andare a fare un'elaborazione del raw questo è abbastanza utile perché poi nella fase di unione se io scopro che ho bisogno di modificare leggermente le due immagini posso continuare a farlo se avessi fatto una prima elaborazione all'interno di lightroom poi fossi andata ad aprire il file come oggetto avanzato qui in camera raw mi troverei le stesse identiche elaborazioni applicate in lightroom quindi potrei tornarci sopra e modificarle in questo caso ripeto non ho dei file raw quindi insomma il vantaggio è un po' minore adesso clicchiamo con il tasto destro naturalmente lui mi ha aperto due file separati io ho bisogno di sovrapporli quindi di metterli di averli come due livelli in un'unica immagine quindi scelgo una delle due per esempio la seconda clicco con il tasto destro sul livello duplica il livello e lo vado a duplicare nell'altro documento ok dopo di che posso chiudere command w chiudi e qua ora sono nell'altro documento ho il livello di base che è questo e il livello superiore che è questo ora voglio andare a fondere queste due cose allora ci sono molti modi di farlo davvero un'infinità nel corso di post produzione avanzata con photoshop che è disponibile come videocorso e che dura più di una ventina di ore noi ci occupiamo per gran parte del corso e del videocorso di questo cioè di come fondere in maniera naturale immagini diverse ci sono tante tecniche alcune sono più adatte ad alcuni casi altre sono più adatte diciamo ad altri casi ora vi farò vedere una tecnica per darvi naturalmente non ho la pretesa di insegnarvi tutto quello che ha a che fare con la fusione manuale delle immagini o delle esposizioni diverse in photoshop voglio darvi l'idea di come si possa procedere in maniera rapida poi qualora foste interessati naturalmente dovreste approfondire il discorso allora uno dei metodi più semplici per farlo è in questa maniera andiamo vediamo che cosa vogliamo fare noi vogliamo andare a selezionare da questo file che è il nostro file di sfondo se vogliamo le zone più chiare e andarle a sostituire con questo quindi disattiviamo il livello sottoesposto quello più scuro e adesso andiamo a selezionare le cose più chiare questo è molto facile farlo in photoshop perché photoshop ha un concetto di maschere che si chiamano maschere di luminosità in cui noi possiamo andare a selezionare le regioni dell'immagine che sono più chiare o più scure diciamo così del grigio neutro allora la prima maschera di luminosità più semplice che posso ottenere la posso realizzare in questo modo vado sui canali premo il tasto command per chi di voi utilizza windows sarebbe control e faccio clic sul canale rgb photoshop mi carica una selezione la vado direttamente ad applicare come maschera del livello quindi vado a creare una nuova maschera avendo una selezione caricata questa selezione diventerà la maschera del livello eccola qua ora ve la faccio vedere per visualizzare la maschera basta premere alt e cliccare sulla maschera eccola qua questa è una maschera il concetto delle maschere in photoshop è molto semplice dove vedete bianco è trasparente il che vuol dire che il livello sul quale è applicato la maschera si applica dove vedete nero è opaco cioè il livello non è attivo naturalmente dove è grigio il livello è attivo in una certa percentuale quindi questo non è altro che un rendering se vogliamo dell'immagine in bianco e nero che agisce come maschera su questo livello adesso vediamo che cosa succede se vado ad attivare il livello ecco qua allora il risultato naturalmente non è un granché perché abbiamo ancora da lavorarci un pochino però vi faccio vedere il senso di questo cosa sta accadendo provo a disattivare la maschera shift clic sulla maschera ecco se disattivo la maschera il livello è attivo al 100% quindi va a sovrascrivere completamente il livello sotto come vedete il livello sotto non conta più se lo disattivo lo attivo non cambia niente se io attivo la maschera allora il livello sotto esposto questo è attivo attraverso questa maschera quindi dove vedete che questa maschera è nera questo livello non agisce dove è chiara ad esempio nel cielo il livello agisce di più ok quindi ho già fatto una fusione di due immagini come vedete in qualche modo io sono già andato a recuperare le luci se vado ad andare a vedere l'istogramma ecco l'istogramma del livello di sfondo è questo molto largo con degli elementi bruciati con questa semplicissima fusione vedete che l'istogramma lo sono andato a stringere quindi sono andato a ridurre il contrasto andando a recuperare le cose le regioni più chiare naturalmente in questo modo ho completamente annullato il contrasto ed ho un effetto che non è un effetto naturale allora qua si entra nel campo di quello che si chiama il pre matching delle due immagini cioè in tutte le tecniche che servono per fare in modo che la fusione sia il più naturale possibile vi do soltanto l'idea di uno degli aspetti fondamentali che servono diciamo per rendere la fusione il più possibile naturale e l'idea di base è questa le immagini che noi andiamo a fondere devono essere il più simili possibile se noi andiamo a unire due immagini molto molto diverse tra loro ci sarà sempre qualche problema nella fusione allora per fare questo se noi abbiamo a disposizione un file raw possiamo andare a fare una pre lavorazione del file che vada appunto nel senso di avvicinare le due immagini tra loro posso farlo molto semplicemente ripeto tenete conto che sto lavorando con due jpeg di uno smartphone quindi la quantità di informazioni che io ho nel file qua è minima se avessimo un raw avremmo una flessibilità molto maggiore se io faccio doppio clic sul livello superiore quindi vado ad aprire il livello superiore in camera raw camera raw lavora tranquillamente che si tratti di un raw o non si tratti di un raw gli strumenti sono gli stessi e che gli strumenti che diciamo i dati che io ho a disposizione sono pochi per esempio se io qui andassi ad aprire le ombre vedete che cosa succederebbe qua in questa zona un grande un grande deterioramento dell'immagine una grande perdita di qualità perché questo ripete è un file che contiene poca informazione quindi non posso andare a fare delle cose così aggressive su un raw avrei una flessibilità molto maggiore quindi questo lo andiamo immediatamente a resettare voglio fare una cosa molto molto più semplice voglio andare ad avvicinare questa che è l'immagine sottoesposta con l'immagine sovraesposta come faccio? vado ad aumentare l'esposizione ok? naturalmente devo stare attento a non bruciare l'immagine altrimenti perdo il senso di questa fusione andiamo anche a più 1,6 quando faccio questa operazione non voglio perdere il dettaglio nel cielo per cui magari vado a recuperare le luci lo recupero anche al 100% ora voglio darvi un po' diciamo all'80 insomma sto esagerando un po' perché possiate vedere chiaramente qual è l'effetto questa è l'immagine prima questa è l'immagine dopo prima dopo sono ancora all'interno di camera raw cioè cosa sto facendo? sto andando ad avvicinare le due foto e in questa operazione non sto perdendo il dettaglio nel cielo se avessi un raw l'altra cosa che farei e andare ad aprire le ombre non così tanto ma un pochino come vedete non posso farlo non c'è abbastanza informazione ma se avessi un raw e andassi un pochino ad aprire le ombre andrei ulteriormente ad avvicinare le due immagini guardate già semplicemente così la differenza ora clicco su ok questa è la fusione delle due immagini dopo aver fatto questo piccolo aggiustamento in camera raw che appunto prende il nome di matching cioè avvicinare fare un match fare un avvicinamento delle due immagini dal punto di vista dell'esposizione guardate come era prima questa era prima questa è ora prima ora c'è una differenza enorme questa è un'unione molto molto più naturale che mantiene ancora un buon livello di contrasto mentre invece prima come vedete basta che andate a vedere qui vedete che c'è chiaramente qualcosa che non va questa è l'unione dopo il matching e se guardate il cielo prima dopo vedete che non ho perso alcun dettaglio nel cielo addirittura se io disattivo la maschera vedete che ho tutto il dettaglio nel cielo che deriva dall'immagine sottoesposta ok allora un'altra cosa ovviamente ripeto questo è solo per darvi un'idea da qua in avanti dovete considerare che si continua a lavorare intanto per esempio si va a raffinare questa maschera ad esempio se io faccio alt e clic sulla maschera del livello vedete che cosa vado a notare che per esempio in questa zona la maschera è grigia ora questa zona probabilmente il che vuol dire che in parte io sto andando a prendere in questa zona l'immagine che mi questa immagine che mi trovo sul livello superiore cioè questa ma questa è la zona delle ombre io qui dovrei andare a prendere questo l'immagine sotto quindi avrei bisogno di perfezionare un pochino questa maschera vi faccio vedere solo una rapida idea alt e clic visualizzo la maschera vado ad aprire le curve o diciamo i livelli per esempio command m o control control m vado ad aprire le curve e vado a contrastare questa maschera quindi mi prendo il punto di nero me lo sposto a destra ecco vedete già se faccio questo cosa succede qui in basso la mia maschera è diventata completamente nera vuol dire che non agisce il mio livello non agirà più in questa zona e quindi il mio livello sottoesposto qua non è attivo quindi questa parte del muretto questa parte del tetto li andrò a prendere dal livello sotto che è quello che ha un'esposizione superiore va bene stessa cosa naturalmente posso fare andando a contrastare andando diciamo a spostare un pochino il punto di bianco quindi andando a prendere una porzione maggiore del cielo ok vediamo il prima e il dopo prima dopo vedete qua prima dopo da qua in avanti ovviamente la post produzione non è finita è appena iniziata ma da qua in avanti prosegue come sempre il contrasto va ancora regolato quindi io potrei andare a prendere un livello di curve e andare a questo punto a regolare il contrasto posso andare a regolare la saturazione posso fare una serie di operazioni che ora non faccio perché voglio limitarmi all'unione delle due immagini d'accordo? allora salviamo questa immagine torniamo in lightroom andiamo a confrontare il risultato delle due operazioni quindi salvo automaticamente quando torno in lightroom mi trovo eccola qua il mio file psd salvato e importato all'interno del catalogo allora voglio andare a confrontare questo voglio andare a confrontare questa che è la mia unione fatta come vedete in 5 minuti ma 5 minuti perché ho dovuto spiegarla senza spiegarla 20 secondi all'interno di photoshop con quella fatta automaticamente da lightroom le seleziono tutte e due premo n ecco fatto questa è l'unione a sinistra l'unione in photoshop a destra l'unione hdr in lightroom al di là del fatto che l'unione hdr tende a spingere di più la saturazione vedete immagino possiate vedere che qui c'è un dettaglio decisamente inferiore ecco in questa rispetto a questa qua si creano gli artefatti si creano problemi al bordo è un'unione molto molto meno naturale questa è un'unione decisamente più naturale di questa photoshop hdr in lightroom se vedete che l'immagine ecco in lightroom quella di destra ha un contrasto maggiore è perché il lightroom fa tutto insieme e quindi ci produce un'immagine addirittura la satura l'immagine ma dovete pensare che l'immagine di destra va ancora lavorata quindi qui c'è da tirare fuori naturalmente i colori la saturazione il verde il contrasto il contrasto sui mezzi toni il dettaglio nel cielo tutto quello che volete e quindi naturalmente questa non è l'immagine finale ma come step di fusione è un qualcosa di decisamente più naturale tutto questo in generale non riusciremmo a ottenerlo da un'immagine singola va bene ecco ripeto ora il caso di oggi è un po' al limite come vi dicevo se avessi scattato il RAW non avrei avuto bisogno di fare questa fusione ma sono tantissimi gli esempi in cui in realtà la fusione è necessaria considerate che oggi il cielo è coperto quindi tutto sommato il contrasto è abbastanza basso se avessi fatto questo tutorial ieri che il cielo era sereno avrei avuto una differenza di luminosità tra cielo e primo piano assolutamente eccessiva e non sarei mai riuscito a recuperare con un singolo file RAW bene allora ragazzi per oggi è tutto spero di avervi ovviamente non pretendo di avervi insegnato tutto sulla fusione delle immagini sarebbe folle come vi dicevo c'è un intero corso dedicato a questo però spero di avervi dato l'idea di che cosa significa fondere due esposizioni diverse che cosa significa farlo automaticamente ad esempio all'interno di Lightroom e che cosa significa farlo manualmente se siete interessati a questi temi potrete approfondirli sia sui nostri videocorsi ma anche su tutto il materiale che troverete in rete nel frattempo spero che stiate bene che stiate a casa naturalmente come sto io bloccati per colpa del virus ma che siate sereni e che stiate utilizzando questo tempo per magari fare qualcosa che vi piace tipo approfondire un po' della nostra passione per la fotografia ci vediamo presto tornerò domani con un altro tutorial magari su qualche argomento completamente diverso state bene vi abbraccio grazie a tutti Grazie a tutti.